Ciao a tutti, sono Robi Facchinetti, so che è in corso una festa lì nel vostro paese di Barzizza perché il vostro parroco dopo 12 anni vi saluta. So fra l'altro che il vostro parroco è un amante della nostra musica, che ama la nostra musica e allora non potevo non partecipare anch'io a questo evento, a questo saluto. Bene, allora lunga vita al vostro parroco, voglio partecipare anche con un cin cin, con una bibita canadese perché in questo momento mi trovo in Canada. Vi abbraccio tutti amici di Barzizza e un saluto particolare al vostro parroco. Ciao, a presto.